Ehi, amico, ti ricordi di me? Ah, sì? Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgarri dei salieri. Ora ti insegno io, così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come va il ragazzo? Dino, Lu. Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirvi, riferite a me. Menti così, eh? Allora ascoltami perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. Ma forse potreste non andrò bene affatto, che dici? Ok, bene. Si vede in giro, eh? Andiamolo. Eh, grazie. È in me. Forza! Andiamo a salutare il Don? Si vede. Eh, mi piacerà. Eui, mi piaccia. Andiamo a salutare il Don? Eui, mi piaccia. Grazie a tutti.